Lei è Federica Di Pace, la prima domanda è, coach, come nasce la passione per il basket? Allora, innanzitutto, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito e per la disponibilità. Come nasce la passione per il basket? Beh, penso sia nata un bel po' di tempo fa. Adesso ho 28 anni, quasi 29, è nata più o meno che ne avevo 8-9 di anni, quindi ero piccolissima, ricordo poco, ricordo solamente che giocavo con i maschietti perché squadre femminili a Salerno non ce n'erano. E ho giocato per tanti anni per poi smettere e iniziare ad allenare da qualche anno. Appena iniziate, subito le prime domande, quindi subito, sei la prima in assoluto, parte la trasmissione e già ci sono domande. Nemmeno con il mister Lerro della battita Iese abbiamo detto tutto. Si era iniziato con questo sprint. Vai Raffaele, vai subito con le domande, tanto è lei la protagonista. Mi rende, chi le fa le domande? Ester Vicinanza è la prima domanda e dice, Ilog, direttamente da Salerno Federica di Pace. E' questa è una presentazione. Giovanni sei uno spettacolo, sempre Ester Vicinanza, poi Ginevra Lemma, wow, Ester Vicinanza, Federica, quanto ami le tue bimbe? E' un odio amore, diciamo. Il mio amore è direttamente proporzionale all'odio, che è proprio per loro, no? Vabbè, parole, né termini, né cifre per poter quantificare. Allora, io, Raffaele, siccome tu sei il buono e io sono il cattivo, quindi partiamo con il buono. Inizia a fare qualche domanda tua, anche qualche curiosità che vuoi chiedere a Coach di Pace. Un'oretta di Coach di Pace, parleremo di basket maschile e femminile, perché voglio ricordare che il, lo possiamo dire, Coach, il compagno di Coach Federica di Pace gioca nella squadra maschile della... Ma non solo gioca, Omeps, Omeps, Socied, Battipay, a me anche il preparatore atletico... Ed il capitano, nonché il capitano della squadra. Il capitano della maschile è anche il preparatore atletico della serie a due femminile, quindi... Vai Raffaele, inizia tu con le domande e poi continuiamo con... Aspetto Vincenzo Di Pace che ha detto presente, Vincenzo Di Pace, fai le domande.